Più che una casa, la loro era un vero e proprio arsenale. Così una coppia di coniugi del rione Traiano, domiciliati a Varcaturo, è finita in manette. A scoprire le armi nella loro abitazione sono stati i carabinieri, che hanno sequestrato un fucile, un kalashnikov, due semi-automatiche con matricola a brasa e cariche, cinque pistole sceniche private del tappo rosso, decine di cartucce a palla blindata e parabellum e due coltelli da caccia, oltre a 2000 euro in contanti e tre stecchette di hashish e un bilancino. I due, di 38 e 36 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai militari per detenzioni di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni.